Il primo aprile non è solo una giornata di vita agli scherzi, oltre al pesce d'aprile, il primo del mese può essere anche una sorpresa per tutti, quindi ecco che faccio un advertiser veloce, così da non perdere tempo. Ieri primo aprile alle ore 18 è uscito gratuitamente il gioco Content Warning, un gioco che unisce lo stile di Tabs con il divertimento di Little Company. A differenza di quest'ultimo, lo scopo del gioco è esplorare un luogo tetro per firmare l'orrore che si nasconde per poi pubblicare il tutto su SpookyTube. Giocate da soli o in co-op con 4 giocatori, il gioco costa letteralmente 0€, ma avete tempo fino alle 18 di oggi, dopodiché il prezzo arriverà a 10€, di per sé un prezzo ragionevole. Quindi se volete divertirvi con amici e vi piacciono gli horror, correte a prendervi Content Warning. Grazie.